Eccomi! Già al lavoro? Come al solito, forse stamattina ho iniziato qualche minuto dopo. Ah, perdiamo i colpi. News? Sì, sono da Stefania e piacere tutto ci sono ottime possibilità di vincere. Quindi? Per consegnare un lavoro ancora più completo servirebbero altri scatti. Villa Rosa. Villa Rosa? Già, adesso. Cosa? Sì, purtroppo i tempi sono strettissimi. Ah, dimenticavo, dovevo mandarci anche un foot. Ecco, siccome qua già faccio poca attività fisica. Comunque che mi dici? Cavolo, è un po'... Ti prego dimmi di sì. Avevo varie cose da finire. Dai, nel caso ti do io una mano quando torniamo a casa. No, no, è che... Rosa, sono 1500 euro a testa. Eh, lo so. Lo so. Lo so. Quindi? Dai, ok. Grande. Come restiamo? Ci vediamo tra un paio d'ore al ponte della ferrovia abbandonata. Tanto da lì siamo abbastanza vicine. Sì, dovrei farcela. Al massimo aspetterei qualche minuto. Ok, dai, io ho il tempo di passare da casa e cambiarmi. Va bene. Dai, a tra poco. A tra poco. A tra poco.